Tutto pronto al Santuario di Paola per l'ottava edizione di Aurea alla Borsa del Turismo Religioso delle Arei Protette. L'evento che porterà sulla costa tirannica cosentina, Bayer nazionale e internazionali interessati ai percorsi religiosi e di arte sacra della nostra regione, è stato presentato a Reggio Calabria presso Palazzo Campanella. Un evento che vuole far conoscere e valorizzare l'immenso patrimonio storico, artistico e paesaggistico che caratterizza il territorio calabrese, attirando i flussi turistici dei viaggiatori di fede. Il turismo religioso ci consente di cogliere quello che è stato il modo come gli uomini del passato, in prima linea i santi, hanno affrontato il senso della vita. Perché San Francesco di Paola che si ritira nel deserto presso il torrente non fa altro che affrontare il suo senso della vita. Oggi noi che andiamo a rivisitare quei luoghi ci sentiamo affascinati non solo dalla bellezza del luogo, ma anche affascinati da quella esperienza che naturalmente viene riproposta a noi, non perché noi la copiamo, perché ogni esperienza di vita è originale, ma perché noi da quella esperienza attingiamo qualche valore profondo che possa servire a tutti noi. L'Abbazia Florenza di San Giovanni in Fiore, la chiesetta di Piedigrotta, la chiesa degli ottimati di Reggio Calabria, sono solo alcuni dei luoghi che permetteranno all'offerta turistica calabrese di farsi conoscere e apprezzare nella tre giorni di Aurea. Un'iniziativa che vede la conferenza episcopale italiana e la Regione Calabria lavorare insieme. Tra le tante che la Regione ha messo in campo nel campo del turismo, noi riteniamo che quello religioso sia uno dei punti di forza, perché possiamo e dobbiamo valorizzare al meglio le grandi potenzialità di questa terra, e soprattutto perché questa è una terra che ha dei riferimenti importanti e quindi ha dei santi, ha delle realtà che sono straordinarie, molto belle, poco conosciute, che vanno valorizzate, ecco perché abbiamo ricercato ancora una volta questo percorso e riteniamo che sia un settore, un segmento del mercato turistico che noi vogliamo decisamente attenzionare.